Amici delle cose vecchie, vi presento una favolosa veglia degli anni 20-30 tutta funzionante restaurata, quadrante nero introvabile e i numeri altrizio, luminosi ha la funzione silenzio e sveglia vedete c'ha due cariche con la presa binaria, qua si carica il tempo, la sveglia, si mette sull'ora e qua c'è la leva della velocità del tempo dell'orologio che visto l'epoca è già tanto che vada, di precisione al quarzo non si ha mai, in base se la molla è più tirata o meno tirata va un po' più veloce, un po' più piano quindi il tempo è tutto relativo sono più didattiche che da usare comunque è già un miracolo che funziona che tenga tempo e non si fermi è un aggiunto incredibile, era un ecc..